Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. La stagione estiva volge ormai al termine ed è tempo di bilanci anche per il sindaco di Servigliano, Marco Rotoni, che mostra soddisfazione per le iniziative messe in campo ed il ricco cartellone predisposto dall'amministrazione comunale che hanno riscosso il notevole successo ed in grado di soddisfare i gusti dei tanti turisti che hanno scelto Servigliano come meta delle proprie ferie. Un successo frutto di un'attenta programmazione ma anche di una fattiva collaborazione e concertazione con i territori limitrofi. Ma il turismo sicuramente è un segmento significativo, interessante, che riesce a diversificare anche in questo momento quelle che sono le azioni delle nostre aziende. Registriamo naturalmente un buon passo sull'incoming dei nostri territori e quindi speriamo di poter lavorare in maniera strutturata e sinergica per porre le condizioni affinché il turista possa venire una volta ma tornare nuovamente perché l'attività di sistema che dobbiamo porre in essere è finalizzata a questo. E quindi c'è necessità di un passaggio di mentalità. Dalle nostre parti dobbiamo auspicare a questo, quindi dare servizi al turista, farlo in maniera naturalmente collegiale e coordinata e quindi capire che allargando il perimetro del nostro compasso d'azione sul territorio si riesce secondo me a fare cose importanti. Veicolare e promuovere un brand in grado di caratterizzare e riconoscere non solo servigliano ma tutto il territorio rappresenta un'arma in più su cui investire per alimentare il tessuto economico e produttivo dell'intera zona. Ma la sfida di noi amministratori è quella di dare un valore aggiunto alla parte del territorio che viviamo e farla dando un'immagine unitaria e suggestiva e evocativa di quello che noi abbiamo delle risorse naturalistiche, storiche, culturali, di dinamicità naturalmente. Ma per fare questo dobbiamo avere noi la consapevolezza che un lavoro d'insieme, un lavoro strutturato e coordinato può essere quell'elemento chiave di congiunzione tra l'attività, tra il turista, tra il territorio e tra i servizi. Ma a distanza di sei anni il primo cittadino di Servigliano deve fare i conti con la ricostruzione post-sisma. È lo stesso Rotoni a fare il punto sulla situazione ed evidenziare quelle che sono le prossime priorità. La ricostruzione per noi è una grande priorità, è anche una grande scommessa perché come dicevo prima le variabili sono tante quindi i nostri uffici sono impegnati, 24H, a cercare di dare il là a quelle che sono le procedure e le misure e le risorse. Quindi per quanto riguarda il comune di Servigliano sicuramente apprezziamo il fatto che già le opere all'interno del Palazzo Municipio siano quasi in fase ultimazione e auspichiamo che anche le altre opere importanti nelle strutture dell'albero di talenti che ospita il Centro per ragazzi disabili e l'Asilo Nido possano vedere l'affidamento entro comunque quest'anno solare unitamente anche alla Chiesa di Santa Maria del Piano che già transita nella fase della giudicazione e quindi abbiamo auspicio che si possa all'ingresso dell'anno 2023 cantirizzare queste opere.